Eccoci con Lorenzo Manzi della Goliardica, una partita pubblica. Quali sono state le principali difficoltà che avete incontrato? Le principali difficoltà che abbiamo trovato oggi, in quanto eravamo una squadra giovane, sono state incontrare una squadra comunque dura, una squadra di spese come Canaletto, e basta, ne eravamo tutti giovani, per alcuni era la prima, per alcuni la seconda, in questa zona è stata una partita difficile sotto l'aspetto fisico. Poi voi avete poco da giocarvi in realtà oggi, erano loro che dovevano far la gara? Sì esatto, loro giocavano tutto per tutto, noi giocavamo poco, quindi loro avevano una motivazione più guacca. Grazie mille.